Il corso di patente nautica è un momento molto importante per i nostri allievi perché rappresenta il punto di partenza per la realizzazione di un proprio sogno. Per noi è fondamentale il rapporto che si crea con il cliente. Con queste persone ci leghiamo per molti anni perché rappresentiamo un punto di riferimento per la preparazione ad un esame che richiede conoscenze, determinazione nel raggiungimento dell'obiettivo. Per questo motivo forse loro si ricordano di noi per molto tempo e questo ci dà grandi soddisfazioni.